Approvato a Pistoia un protocollo d'intesa per la promozione e l'applicazione dell'amministratore di sostegno, figura di protezione giuridica che tutela le persone prive in tutto e in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente. Un protocollo raggiunto da un esecutivo che ha coinvolto rappresentanti giuridici, sanitari e assistenzialistici pistoiesi, in pratica tutte le associazioni e gli ordini professionali che si occupano del tema. Si fa veramente qualcosa che è importante per il cittadino, l'amministrazione di sostegno è un istituto fondamentale per poter essere vicino alle persone che hanno necessità e bisogno di un sostegno, di un aiuto per casi particolari che lo richiedono. Questo protocollo sostanzialmente cerca di elevare la qualità dell'amministrazione di sostegno attraverso la formazione ma anche attraverso delle reti di informazione che possono agevolare l'introduzione di questo istituto. Un protocollo che permette di mettere in rete tutti quelli che sono gli attori che potranno servire al giudice tutelare nel dare l'incarico appunto all'amministratore di sostegno che troverà sul proprio territorio tutto ciò che può servire per far sì che la persona che ha incarico nei limiti ovviamente della sua situazione possa mantenere sempre la più larga autonomia possibile e quindi dare strumenti per meglio poter svolgere la sua attività e al contempo, come dicevo, permettere al soggetto che ha l'amministratore di sostegno di poter al meglio essere sostenuto nelle sue esigenze.